Noi abbiamo organizzato questo incontro a conclusione del lavoro che abbiamo fatto col tavolo del credito, dove abbiamo impostato un nuovo modo di trattare e di relazionarci col mondo bancario e finanziario in senso generale. In questa giornata qui vorremmo raccogliere il frutto del lavoro fatto in questi anni. È vero, è cambiato il mondo, sono cambiati i mercati, è cambiato anche il modo di rapportarsi fra impresa e banca. Le imprese hanno bisogno delle banche, le banche hanno bisogno delle imprese. E abbiamo impostato questa nuova relazione sulla trasparenza, sulla credibilità da parte di entrambi e soprattutto sul dialogo, sul fatto di voler affrontare in maniera trasparente e serena i problemi che le imprese hanno, che le banche hanno. Abbiamo visto che parlandoci, affrontando in maniera diretta e chiara, in maniera trasparente, abbiamo risolto molte questioni sul tavolo. Le banche hanno bisogno dell'impresa perché le banche hanno riscoperto l'importanza dell'impresa, hanno riscoperto che il cliente valido per la banca è l'impresa e le imprese hanno fatto un salto culturale non indifferente. Le banche devono sottostare a certe regole, oggi le regole sono le regole europee, o siamo coscienti delle regole con cui ci dobbiamo muovere e quindi di conseguenza ci muoviamo. E devo dire che le banche hanno capito questa esigenza delle imprese, le imprese hanno capito l'esigenza delle banche e mi auguro, da quello che ci risulta, che il rapporto oggi fra banca e imprese sul nostro territorio sia un rapporto costruttivo, un rapporto orientato alla crescita e allo sviluppo del territorio.